89 anni di cui oltre 60 dedicati al cinema e al teatro. Carlo Croccolo racconterà la sua vita in un docufilm che sarà girato a breve dal regista Giorgio Pinto per ripercorrere una carriera artistica che ha incrociato Edoardo e Pepino De Filippo, Totò, Sofia Loren, Vittorio De Sica, Giorgio Streller, Luigi Magni, Nanni Loi, Dino Risi. Memorabile la sua interpretazione di Luigi Nobellezza Mia in Miseria e Nobiltà diretta da Mario Mattoli. O signore, parlo così. E poi mano a mano io sono andato avanti perché ho fatto Miseria e Nobiltà tutti i ruoli. Con Cannavale sì, ho fatto Felice. Poi dopo invece l'ho ripresa con una mia edizione dove facevo il padre del cuoco praticamente. Al teatro San Carluccio è stato presentato questa mattina il progetto cinematografico che giovedì 14 avrà il suo avvio nel complesso di San Domenico Maggiore con la serata teatrale semplicemente Carlo, realizzata in collaborazione col Comune di Napoli, i cui ricavi finanzieranno la realizzazione del film. Ci focalizzeremo molto sulla vita, sulla vita privata dell'uomo, ovviamente gli aspetti di cui lui poi ci dirà su cosa parlare, su cosa focalizzarci. Carlo Croccolo è una personalità tale che merita il patrocino del Comune di Napoli. Mettiamo insieme il teatro, il cinema, il doppiaggio, la radio, il computer, la città di Napoli, tanti artisti di un tempo e di adesso e quindi Napoli che punta sempre sulla cultura si fa trovare pronta quando c'è qualcuno che vuole fare qualcosa per la nostra città attraverso la cultura e in questo caso attraverso Carlo Croccolo. Grazie.